Ben ritrovati dall'ippodromo del Mediterraneo di Siracusa. Scatterà nel pomeriggio di venerdì 6 dicembre la prima delle tre giornate dedicate alla grande e ipica siracusana del Meeting Internazionale, che festeggia e celebra anche l'anniversario dell'imponente struttura di Contrada Maggio Spinagallo. Nata nel 1995, cresciuta, elevatasi in modernità e tecnologia, è divenuto ormai tempio della passione dei cavalli che si registra sul territorio siciliano. Il tutto contornato all'interno di una grande festa fatta di ospiti, quelli delle 12 nazioni aderenti all'Unione Ippica del Mediterraneo, impegnati per le finali dei campionati di guidatori e fantini. La WIM, nata a Napoli nel 2008, riunisce ormai ben 15 paesi che si affacciano sul mar Mediterraneo e organizza eventi ippici internazionali, incrementando e valorizzando il settore ippico, anche grazie al confronto e al dialogo interculturale con le diverse aree interessate. Il tavolo di confronto sarà proprio qui a Siracusa, sabato 7, con un consiglio convocato in sede all'Ippodromo del Mediterraneo. Poi gli eventi collaterali, quello del trofeo dei Quarte Rors, con ben 25 esemplari dei cavalli più veloci sul quarto di Miglio che torneranno a sfidarsi sulle piste dell'Ippodromo di Siracusa, e ancora gli esemplari di uccelli notturni e rapaci che desteranno meraviglia per la loro unicità e bellezza. Il trotto protagonista di venerdì 6, con l'atteso gruppo 3, il GP Mediterraneo, è con il premio città di Siracusa a 22.000 euro di Montepremi, il primo 40.000 per cavalli di 4 anni. 8 inni nazionali suoneranno all'interno del Mediterraneo, proprio perché la WIM parteciperà con i loro guidatori che saranno impegnati nella settima corsa per la finale del campionato riservato ai driver. Le due prime nazioni in classifica, Francia e Malta, dovranno dar battaglia poi alle altre 6 nazioni che si confronteranno proprio sulla pista dell'Ippodromo con i loro guidatori. Partiamo dal campo partenti del GP Mediterraneo, la quinta corsa, una bella edizione che per la prima volta è stato sempre svolto all'Ippodromo la favorita di Palermo, si è disputato da tanti anni proprio nella realtà palermitana, scesi per l'occasione cavalli come Anthony Leone, Aramis e K, c'è la forma locale affidata ad Achela Palferm, ma non è una corsa scontata. E allora affidiamoci ai pronostici che vengono rilasciati innanzitutto dal nostro segretario corsa Francesco Sirchia e poi per Gasperello Verde dal caporale di Scuderia Fazio e ancora da Carlo Giordano che sono impegnati in corsa. Nonostante il GP Mediterraneo quest'anno abbia raccolto solo 8 adesioni, si presenta come una corsa abbastanza combattuta e dall'esito anche incerto. La presenza di due soggetti come Aramis e K e Anthony Leone, diciamo che fa avvertere il pronostico verso loro due. Sono due soggetti che non hanno mai vinto una classica fino a questo momento, però vantano delle presenze importanti in corse di spicco, come Aramis e K e terzo nel recente Mangelli, oppure Anthony Leone piazzato nel derby, piazzate ripetuzioni in altre corse di gruppo proprio per i tre anni. Questi due sembrano bloccare il pronostico. Di scorta chi ci può essere? Ci può essere la locale Achela Palferm che sulla pista praticamente ha sempre vinto tranne una volta e anche nelle sue esperienze fuori dalla Sicilia non si è mal comportata. Poi ci sarà anche Ananas Jet che è tornato in allevamento al signor Villani, dopo una breve parentesi presso le scuderie di Olga Lerert. È un cavolo che parte forte, però incline all'errore. Per questo liscio ha una chance anche lui di ben figurare. Ancora da Napoli si sposta a Mericio Jet, un cavolo molto regolare potrebbe far leva sulla buona posizione per prendere un buon piazzamento. Il campo partenti è completato da altri tre soggetti locali, ovvero il meglio che la Sicilia ippica per i tre anni possa portare, ovvero al Baricocca, Argocam e Alquitrana. Per loro già un piazzamento sarebbe un ottimo risultato. Il cavolo da battere è Anthony Leone, il cavolo guidato da Gaetano Di Nardo, è l'ultimo sfortunato all'Ossimangelli, però diciamo che sia la volta buona per portarlo a casa. Da non trascurare è Aramis e Capp, Aramis e Capp con goccia d'oro e poi mi piace molto anche la palla ferma. Al Baricocca sta bene, però se era 2000 metri era ancora meglio. Poi ci sono due cavalli che non trascurerei, sono Ananas Jet e Americio Jet, che sono due cavalli che partono, Americio parte forte, penso che corre per una buona piazza. Ananas Jet è un cavallo veloce, però dovrà costruirsela la corsa. Argocam è un cavallo che c'è in allenamento da pochissimi giorni, però il cavallo sta correndo abbastanza bene, il cavallo sta bene e il numero è un po' particolare, però speriamo anche con lui di prendere una piazza. Anche qui guardiamo il campo portante. I avversari sono Achela Parfermi, che è una cavalla che si trova benissimo sulla pista, credo che abbia tre o quattro vittorie l'uno dietro l'altro, Anthony Leone che è arrivato terzo al derby, questo di goccia d'oro, Aramis e Cappa. I cavalli ci sono, cavalli abbastanza buoni, qualitativi, però il cavallo ci sta. Il premio Città di Siracusa sarà la terza corsa alle 15.40 per un convegno che inizierà un'ora prima circa alle 14.40, 22 mila euro di Montepremi per cavalli di quattro anni impegnati sul miglio per un invito. Otto Alvia spicca tra il campo portente Tina Turner che ha vinto due città di Siracusa l'uno dopo l'altro ci sarà ancora Gasparello Verde in cabina di regia e chiamata a difendere quindi questo trono inaccessibile agli altri. Ci sono tante novità come per esempio la goccia d'oro che scende con René Legati e Vesna, peraltro appare in buona forma. Ci sono anche dei soggetti provenienti da Napoli con un buon curriculum e poi la forma locale affidata invece a chi si è messa in luce proprio qui all'ippodromo al velocianello siracusano. È una corsa nata nel 2000 che si è disputata sempre nell'agosto a Siracusa e che dal secondo anno viene disputata invece nelle riunioni principali dell'inverno appunto del Mediterraneo nel meeting internazionale. E allora per parlare del premio città di Siracusa ci affidiamo a Francesco Sir che è il segretario corse che analizza cavallo per cavallo partecipante al campo partenti, Carlo Giordano che presenta unico OP e ancora per la scuderia Lo Verde Fazio che presenta invece Tina Turner. Il città di Siracusa prevede la partecipazione di otto soggetti con Tina Turner che deve difendere lo scettro della vincitrice in quanto ha vinto due volte di fila questa corsa negli ultimi due anni. Qui dovrà confrontarsi soprattutto con altre due femmine, Vesna e Volcadabar. Vesna appartenente al team Gocciadoro Legati è una cavalla che di recente si è sempre piazzata, le manca forse la vittoria di risalto, questa è una buona occasione per potersi imporre se lo schema sarà favorevole. Volcadabar non ha un numero semplice però è una cavalla che sa partire fortissimo e andando in posizione con schema favorevole può essere un'altra candidata al successo. Da Napoli arriva supportato da una buona condizione, Zaffiro Top, un soggetto in grande crescita. Poi ci saranno altri soggetti locali con United S che probabilmente è preferibile alla coppia di Cucinotta. Provate con unicoppi? Buongiorno, ci proviamo sì, speriamo di prendere una buona piazza, c'è qualche cavallo un po' più forte di lui però il cavallo sta correndo bene, ci sta. E allora gli avversari? Gli avversari? Gli avversari sono Volcadabar, Tina Turner, Very Wind, gli avversari ci sono però può sfruttare il numero alla corda e tentare di andare in posizione e prendere una buona piazza. Tina Turner deve soltanto impegnarsi per fare il test di vittoria? Sì, innanzitutto il numero 8 la sacrifico un po', però lei parte forte e speriamo di prendere una buona schiena e correre sempre gli ultimi 5. La cavalla nel Gran Premio ha corso un po' sotto tono, però dovrebbe correre molto meglio. I cavalli che vedo molto propizi alla vittoria sono a parte Tina Turner, Volcadabar e Vesna, sono due cavalli che in questa città di Siracusa possono dire la sua. Da inserire nella trio mi piace molto United e Daes, un callo che parta anche forte e sta correndo bene e speriamo che la cavalla Tina reagisca bene e portasse a casa questa vittoria. La cavalla nelle ultime due uscite nel città di Siracusa è uscita da vincitrice. Vi andiamo a scoprire chi sono i protagonisti del premio campionato del Mediterraneo. Vi dicevo, giorno 6 impegnato con il trotto, la UIM presenterà l'Unione Ippica del Mediterraneo alla finale del campionato dei guidatori, mentre giorno 8 interessati ancora i paesi che riguardano la UIM però legati alla finale del campionato dei Fantini. Per quanto riguarda la settima corso è un invito per cavalli anziani, sul miglio si corre in 8, risuoneranno 8 in nazionali e poi la meglio la potrebbe avere anche la stessa Italia che potrebbe gareggiare con Spirit MN. Il Portogallo con Villeneuve-Griff che scende tanto di categoria ha più chance degli altri ma sentiamo gli addetti ai lavori per quanto riguarda questo premio campionato del Mediterraneo. Ricordo la classifica, la Francia in questo momento è prima con 41 punti, Malta 37, Italia 32, Russia 27. Sono queste le nazioni che si giocano la classifica o comunque la vittoria del campionato dopo ben 4 tappe, la quinta sarà proprio a Siracusa, prima a Malta, la seconda in Romania, poi in Russia, ancora in Francia e appunto si concluderà nella nostra Trinacria. Sentiamo allora proprio su questa corsa il nostro segretario a corse che ci ricorda chi sono i cavalli, le loro prestazioni, i loro curriculum. Saranno in otto al Via nella finale del campionato del Mediterraneo, una corsa che comunque non è scontata. Diciamo che Vilnev Griff è il cavallo che scende tanto di categoria e se è in condizioni più che sufficienti potrebbe essere il cavallo da battere. La migliore alternativa è proprio il soggetto guidato dal driver italiano, ovvero Walter D'Ambrogio e Spirit MN. Spirit MN sta correndo bene, all'ultimo è stato sfortunato perché è stato vittima di un danneggiamento, ma qui potrebbe riscattarsi. Tra gli altri direi che la regolare Toshiba S a svolgimento favorevole potrebbe rivelarsi molto pericolosa perché è una cavalla che ha 400 metri finali di ottima fattura e potrebbe mettere tutti d'accordo. Andando a sfugliare tra gli altri direi che il regolare Smeriglio Jet, se supera lo scoglio del numero 7 di partenza, potrebbe essere un altro candidato a una piazza importante e magari perché no anche alla vittoria. E diamo ordine cronologico alle corse, scatteranno alle ore 14.40 venerdì 6 dicembre per una riunione che prevede appunto la quarantesima giornata, ben 7 le corse in programma, 8 le corse in programma per disputare il Gran Premio Mediterraneo e il Premio Città di Siracusa. Alle 14.40 c'è il Premio Santiago King con 6 soggetti al via, si corre sul miglio per una condizionata con cavalli anziani e ancora una volta ci affidiamo al nostro segretario Sirchia per decifrare i possibili papabili alla vittoria. Si apre il convegno con una condizionata per cavalli anziani in cui in grande risalto c'è Utopia Jet, la femmina del team Cintura che sarà interpretata da Andrea Farolfi visto l'appiedamento che sta scontando Salvatore Cintura Junior, parte col netto favore del pronozio anche se di recente ha fatto il bello e il cattivo tempo con qualche piccolo problema proprio nelle fasi iniziali della corsa. E comunque percorso liscio sembra una favorita abbastanza netta. C'è tanta fiducia nel team Porzio per la prestazione di Rayon GV che avrà anche un buon numero di partenza, lui è veloce, può correre sia in testa che di rimessa e può essere una buona alternativa. Una buona alternativa se dimostrerà di aver ritrovato la mia condizione è Simple Red che va forte, che però di recente non ha dimostrato di essere al topo della condizione. La seconda corsa è il premio Nesta F, anche qui 8 al via, cavalli di 4 anni sul miglio per un'altra condizionata, una corsa che prevede Zoom, Rock, Zaffirio, Giall, Zapata tra i più gettonati ma ancora una volta ci affidiamo al segretario Corse. Zoom Rock, un primo e un secondo nelle uniche due uscite siracusane si mette in grande evidenza in questa corsa in cui la femmina signor Cucinotta guidata da Gaetano Di Nardo dovrebbe andare in testa e giostare a piacimento il ritmo della gara. Su questa base sembrerebbe difficilmente battibile. Invece è molto più aperta la lotta per le piazze dove si pongono in evidenza i quattro soggetti del team Porzio, ovvero Zazza Bond, Zazzi del Ronco, Zaffiro Giallo e Zapata Rab. Uno su tutti direi Zapata Rab che ha percorso liscio, è un cavallo che può fare una grande prestazione. E anche Zazzi del Ronco che è andata subito a segno quando è passata sotto le direttive di Porzio e può essere un'altra buona alternativa. La quarta corsa è il premio Tinak Mo, 8 i cavalli al via, si corre sulla selettiva distanza di 2200 metri, ci sono indigeni europei di 3 anni per una condizionata. Quarta corsa è una quarta corsa che sentiamo pronosticare invece dalla scuderia Lo Verde con il caporale di scuderia invece Fazio. La Safo Fermi l'ultima vince bene, vince benissimo il cavallo, spero che corre bene anche domani. Il cavallo 2000 metri è anche alla sua distanza, non vedo cavalli un po' superiore a lui. L'unica cavalla che può impensierirla è Askman, che ha la guida di coccia d'oro. E poi mi piace molto il 5 di Ardea Weiss, cala regolare e penso che la trio dovrebbe essere questa. A Safo Fermi, Askmanau e Ardea Weiss. La sesta corsa è un premio Orses Transport Fratelli La Rosa con un montepremi da 8,8, una condizionata legata all'ipica nazionale, sarà praticamente una corsa sul miglio con ben 11 soggetti al via. Una sesta corsa che ci viene pronosticata da sempre Fazio per la scuderia Lo Verde e Carlo Giordano che presenta Brenta RL. Spiccano Babar Boss che ha messo già tutti d'accordo, Bebe Paz positiva, Vantavittoria anche Bellatris che proviene da Montegiorgio, Bata De Cola particolarmente stimata e poi numero 10 di Bayonne, se non sbaglia, pronta ad andare al segno. Allora sentiamoci le interviste sulla sesta corsa. A Bata De Cola l'ultima sfortunata era in seconda pariglia di fuori e sbaglia senza alcun motivo. La cavalla merita una vittoria perché è un po' sfortunata, ma penso che questa corsa la porta a casa. Da non trascurare il numero 2 di Babar Boss e poi mi piace il numero 10 di Bayonne, un callo regolare che sta correndo anche bene. Brenta RL è una puledra che va abbastanza forte, solo che si esprime poco in questa pista. Speriamo di andare davanti e giocarcela davanti. Insieme a? Insieme al numero 3, Bye Bye Paz, il numero 5 di Bata De Cola e il numero 10 di Bayonne. L'ottava corsa a chiudere la giornata di trotto dedicata all'ippodromo del Mediterraneo, alla prima giornata del meeting internazionale, è il premio di Bartolomei. Sono 8 cavalli al via sulla distanza di 2.200 metri e una categoria G che scende in pista su questa selettiva distanza. Ci sono ben 8 soggetti al via. Fatte Mere, Tabor Caff che scende in un contesto sicuramente alla sua portata. Vale una piazza, Usedi Ruggero, Cresciuto, Timast, ma ci sono tanti altri che magari non essendo regolare però hanno mezzi per poter impegnarsi. Quindi lo chiediamo a Carlo Giordano che è impegnato in corsa con due soggetti. Il Reflex Griff l'ultima volta ha corso male, però il proprietario mi ha detto che sta lavorando bene perché è un cavallo che viene da fuori pendolare e dice che è pronto, sta bene, ha lavorato meglio. Speriamo anche una piazza per lui. Invece l'altro? Rigoletto Rabbea rientro dopo un paio di mesi, però è un cavallo anziano, penso che non abbia bisogno di tanti lavori. Chi vince? Chi vince, 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 eccetera Borcaff che va più forte di questi. Noi mi resta dunque che darvi l'appuntamento con la prima delle tre giornate del meeting internazionale all'ipodromo di Siracusa, 6-7-8 dicembre, saranno le giornate cru, il 6 con il trotto, aspettando soprattutto il GP Mediterraneo e il città di Siracusa, giorno 8 la giornata in cui si festeggia anche l'anniversario dell'ippodromo di Siracusa con 8 corse interessanti e con gli ospiti internazionali dell'Unione Epica del Mediterraneo. Arrivederci.